In giramo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedere. Lo sa fare? Lo facci, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. Tre, quattro, sette, otto, uno. Ci siamo! Non ero sconosciuto, devono essere loro. Metti il viva voce! Pronto? Salve! Buoni! L'accento svedese era convincente. Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese.